Nel corso degli ultimi 4 anni Epic ha fatto davvero tantissime collaborazioni, infatti esiste anche una sezione chiamata serie leggende dei videogiochi. E appunto come sapete esattamente ieri è uscito il novissimo film di Super Mario vs Bowser che possiamo vedere tutti al cinema. E la cosa molto particolare è che probabilmente questa collaborazione la vedremo caso Fortnite quindi potremo vedere la skin di Super Mario arrivare sul gioco. Inoltre in questa mappa il cui codice state vedendo è esattamente a schermo come vedete chiamata Castle Courtyard in autunno quindi facciamo il gioco e guardate cosa ci aspetta. In questa mappa abbiamo una replica del castello di Peach che abbiamo avuto modo di vedere nel primo gioco Super Mario 64 che è davvero molto bello quindi vi consiglio assolutamente di entrare e farci una visita. E inoltre è un ottimo battle royale in quale potete giocare con amici ed arrivare a vincere tutti i 3 round. Codice legato nel shop di Fortnite anche se te vorresti la skin di Super Mario.